Ravello in parte è un tema simile a quello di Caserta, cioè noi abbiamo in Italia dei beni culturali, paesaggistici o beni come la musica che valgono molto di più di quanto non riusciamo a farlo sapere, a farlo capire. Quindi benché Ravello abbia già un nome tra i più famosi e i più importanti nel mondo, c'è ancora tanto da fare, soprattutto è importante mettere Ravello a disposizione del sistema di Napoli, della Campania e dell'Italia. Abbiamo immaginato Ravello come palcoscenico dell'Italia, cioè un luogo che ha una tale forza e attrazione che ci permette di dare luce a tutte le orchestre sinfoniche italiane, ai cori, agli organisti.